ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi ho pensato di proporvi alcune fragranze che io utilizzo moltissimo in questi giorni in cui siamo soprattutto a casa e in cui quindi cerco soltanto qualcosa che mi faccia sentire a posto mi faccia sentire rilassata mi faccia stare il più possibile tranquilla e serena per cui nulla di particolarmente impegnativo nulla di estroso nulla di davvero originale magari quindi sono fragranze semplici che però in questi giorni mi stanno dando delle soddisfazioni due saranno fragranze io direi medium cost e l'ultimo invece una fragranza più ai cost di un brand che sicuramente conoscete volevo dirvi anche una piccola digressione ossia in questi giorni ho pensato moltissimo su e ho riflettuto riguardo appunto al canale ho pensato anche alcune volte in alcuni momenti di chiuderlo perché se dobbiamo guardare probabilmente i dati questo è il canale più fallimentare della storia di tutti i canali che esistono su youtube ma alla fine mi sono un po convinta che se questa è una mia passione è bene che io continui a condividerla e magari anche se è vero io non sono particolarmente brava magari a fare discorsi tra virgolette pubblicitari rispetto alle fragranze però vi racconto davvero quello che sento e quindi ho pensato comunque di condividere anche se non dovesse essere un canale apprezzato da chissà quante persone non non importa cioè spero di arrivarvi comunque e spero che quantomeno si possa condividere questa passione chiacchierando insieme raccontandoci un po le nostre sensazioni un po come abbiamo fatto finora e davvero mi sono detta un po che comunque questo fosse il mio piccolo spazio tra virgolette in cui posso un po fare ciò che davvero mi piace quindi ho pensato comunque di continuare sì così niente la primissima fragranza di cui vi parlo giusto per cambiare immediatamente discorso e non stare troppo a pensare è una fragranza di fremonde ed è questa giglio di mare una fragranza in eau de toilette da 30 ml che si trova all'interno di questa confezione che io non amo particolarmente perché è molto semplice con questo tappo di plastica davvero non mi piace molto però la fragranza è davvero piacevole tra l'altro ho altre due fragranze di questo brand ho bergamotto e ho sultan flower ed entrambe mi piacciono e li utilizzo spesso appunto come profumi molto come dire quotidiani tra virgolette in questo caso però giglio di mare che cos'è? allora giglio di mare è sicuramente un profumo floreale e con un tocco acquatico un profumo molto fresco ma piacevole molto semplice se pensate ai classici marini ecco questo non è sicuramente così è un profumo dolce in cui l'acqua quel sentore forse un pelino acquatico che si sente non è per nulla salmastro non è per nulla pungente ma piuttosto dolce ecco e tra l'altro anche il giglio ha proprio questa nota tendenzialmente di un fiore dolce tra l'altro il giglio di mare è un fiore per me bellissimo che io ammiro spesso quando vado in Sicilia fino ad ora ci sono andata praticamente tutti gli anni quest'anno speriamo di poterci ritornare e che soprattutto sulle spiagge quelle magari un po' più isolate un po' più sconosciute è possibile vedere in quantità enorme si vedono questi gigli proprio mentre si arriva verso il mare si cammina verso il mare che sono secondo me spettacolari un inciso quando sentite parlare di giglio di mare nei profumi sappiate che non si tratta della vera essenza di giglio di mare ma di una sua ricostruzione questo giusto per avvisarvi non viene estratta l'essenza appunto direttamente dal giglio di mare ma viene ricostruito un odore che è simile il più possibile a quello quindi questo per darvi questa informazione tra l'altro il giglio di mare è protagonista di due leggende secondo me molto molto carine la prima è una leggenda greca che riguarda la dea Hera e racconta che Hera dopo aver trovato il piccolo Eracle decide di tenerlo con sé e di allattarlo il piccolo però si attacca al seno così violentemente che Hera dal dolore si stacca un po' come distinto e così uno spruzzo di latte sale fino al cielo mentre l'altro cade a terra lo spruzzo di latte che arriva al cielo forma la via Lattea mentre quello che cade a terra crea il giglio di mare quindi questa è la primissima leggenda a me piace molto poi scoprire tutti questi piccoli aneddoti la seconda invece è una leggenda sarda e racconta che il fiore invece nacque dai capelli biondi di una pastorella sarda che aveva combattuto contro le invasioni saracene purtroppo il suo combattimento e la sua resistenza finirono con un rappimento e poi un'uccisione il suo corpo quindi venne gettato in mare e arrivò fino alle coste dove da questi capelli ancora vitali e ancora rigorosi nacque il giglio di mare proprio su una spiaggia questo è un po' il racconto al di là di tutto questo legame affettivo e questi racconti che secondo me sono piacevoli da sentire io penso che questa fragranza sia un fiorito acquatico piuttosto dolce come vi dicevo semplice nulla di innovativo ma anche molto rilassante davvero tanto probabilmente è un profumo già sentito non dico che sia qualcosa assolutamente di originale però mi fa stare bene sulla mia pelle dura circa 4 ore e poi tra l'altro a me ricorda anche una persona che purtroppo non c'è più che utilizzava moltissimo delle fragranze io non ho idea di che cosa usasse ma ci sento in questo profumo un pochettino di lei quindi è proprio una sorta di insieme di emozioni che mi rimanda a questa fragranza che sono bellissime secondo profumo non so se conoscete questo marchio che è Essenza di Pisa in particolare si chiama Rivage ed è un profumo che ho conosciuto un giorno camminando nelle vie di Lecco per le vie di Lecco sono entrata in questa profumeria e l'ho trovato e l'ho provato e mi sono detta proviamolo perché comunque mi è sembrato piacevole la confezione è questa io la trovo veramente molto deliziosa mi piace tanto ed è un profumo acquatico marino qui è un marino più nel senso classico del termine un vero e proprio marino contiene come note di testa note ozonico marine come note di cuore mughetto ciclamino ilanghi langhe fiori d'acaccia e come note di fondo muschio bianco vaniglia paciuli e note salate qui la nota fiorita è sicuramente più amara ci sono le note ozoniche che sono ben evidenti queste note marine queste note salmastre e a me piacciono tanto sono sicuramente delle note più decise delle note scusate più decise più intense più cariche sicuramente possiamo avvicinarlo di più se vogliamo alla famiglia dei rem anche se il suo carattere secondo me è ancora un pochino più particolare non lo paragonerei completamente a uno di quelle fragranze ha proprio questo fiore che è lo rende un pochettino più particolare come marino da non appassionata del genere mi piace perché comunque trovo che abbia un certo carattere non lo trovo per niente banale e la dorata è buonissima ecco se dovessi per esempio pensare a un profumo che mi fa rilassare più magari dopo una doccia per magari andare anche a dormire allora sicuramente giglio di mare è quello più adatto ma altrimenti per magari il giorno per sentirmi più energica eccetera eccetera probabilmente senza di pisa con rivage sarebbe più adatto anche se io li uso molto indifferentemente l'ultima fragranza invece spostiamo un po' così ci sta anche lui di cui vi voglio parlare è una fragranza di Tom Ford che si chiama Sole di Positano che io ho nella versione acqua esiste anche nella versione profumo classico e si trova all'interno di questa confezione che io trovo sempre molto carine molto eleganti molto raffinate a me piace davvero tanto 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 allora Sole di Positano è un profumo in questa versione cioè come vi dicevo acqua uscito nel 2019 ha come note di testa la foglia di limone il petit grain e il mandarino nel cuore ha l'usciso dei langhi lang il gelsomino il fiore d'arancio e il mughetto e sul fondo sandalo e muschi muschi vegetali e muschi animali invece è un profumo estremamente fresco è un profumo vivace dove gli agrumi iniziali vanno poi a trasformarsi in un fiorito molto molto piacevole molto brillante molto luminoso è un profumo che io trovo un pochettino più brioso dell'originale cioè il Sole di Positano un po' più sicuramente etero è vero ma per me in questo caso non è un difetto dovendolo utilizzare comunque spesso e magari riapplicarlo diverse volte durante la giornata io lo trovo adattissimo come sapete io ho anche mandarino della stessa linea che amo e che rimane uno dei miei preferiti tra di questo genere diciamo ovviamente poi non è magari il mio profumo preferito di sempre però lo trovo molto diverso ecco se dovessi fare un paragone questo è un agrumato magari un pochettino più fiorito sicuramente più frizzante mandarino è sicuramente più dolce e più succoso quindi sono due cose un po' diverse entrambi mi piacciono davvero tanto ma in questo caso con sole di positano sento maggiormente sicuramente una sensazione di benessere di serenità di pace che davvero va a spruzzo continuo cioè lo utilizzo sempre 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 e anche più volte durante la giornata lo trovo un calmante naturale perfetto per me è così l'altro invece magari lo uso più come coccola come qualcosa che mi fa un attimo come dire bene al cuore ecco come mangiare un dolce alla fine del pasto ecco quello lì mi rincuora sinceramente detto questo io credo di aver finito c'è un'altra fragranza che magari in questi giorni sto utilizzando abbastanza che è questa qui saiga di Lecuvon de Minim che è una rosa fruttata un pochettino acidula però ve ne ho già parlato e quindi non mi sembra il caso di ripetermi però è davvero carina appunto da usare durante durante queste giornate detto questo io spero come sempre di esservi stata utile spero di riuscire a rivedervi presto e al prossimo video ciao ciao ciao